Attenzione a tutti i manager! Più di un lavoratore europeo su quattro soffre di una malattia cronica o di un problema di salute. Si tratta del 25% del vostro staff. E una percentuale ancora più grande rischia di sviluppare problemi di salute nel futuro. Questi problemi potrebbero incrementare drasticamente l'assenteismo, far aumentare i costi sanitari e limitare l'abilità dei tuoi lavoratori a svolgere i loro compiti quotidiani. La soluzione è di prendere una posizione proattiva per prevenire le malattie croniche e i problemi di salute. Mostra ai tuoi lavoratori che ti importa. Promuovendo la salute e il benessere, aumenterà la produttività e la competizione. Così tutti vincono. I lavoratori e i manager, le persone con e senza le malattie croniche e la società nel suo insieme. La buona notizia è che il risultato di una collaborazione paneuropea che ha coinvolto organizzazioni da 11 paesi è che ora voi avrete gli strumenti pratici che vi serviranno per farcela. Il Crodis Plus Workbox sul lavoro e le condizioni croniche include due strumenti, un Training Tool per i manager e un Toolkit per l'adattamento degli ambienti di lavoro. Il Crodis Plus Training Tool aiuta i manager a identificare i benefici dell'inclusione e dell'integrazione di tutti i lavoratori e spiega come supportare le persone con condizioni croniche a mantenere la loro workability e il ritorno al lavoro. Ti darà una comprensione più approfondita della vostra organizzazione e gli strumenti che ti servono per aumentare la produttività, l'impegno organizzativo, la soddisfazione lavorativa e la partecipazione. Il Training Tool per i manager è costituito da quattro sezioni. Conoscere le malattie croniche, misurare l'inclusione, valutare la workability e supportare le persone a mantenere il lavoro o ritornare al lavoro. Il primo passo per migliorare la produttività e il benessere sul lavoro è quello di conoscere e identificare alcune tra le più frequenti malattie croniche dell'età lavorativa. Una volta ottenuto un quadro delle potenziali malattie croniche presenti nella tua organizzazione, è ora di misurare l'inclusione del tuo luogo di lavoro. La Crodis Checklist sull'inclusione dell'ambiente lavorativo aiuta ad individuare e superare le barriere che ostacolano la presenza, la partecipazione e il successo di tutti i lavoratori, con o senza un problema di salute. Per valutare e migliorare l'abilità dei tuoi lavoratori a svolgere i loro compiti quotidiani, utilizza il Workability Index. È uno strumento autosomministrato per i lavoratori per misurare la loro workability, tenendo in considerazione l'interazione con l'ambiente di lavoro in cui operano. In base ai punteggi ottenuti, potrai valutare l'eventuale presenza di un'incongruenza tra le loro richieste di lavoro e le loro effettive capacità e mettere in atto dei cambiamenti appropriati. Con tutte queste informazioni alla mano, il Training Tool fornisce sette consigli pratici per sviluppare e implementare un piano d'azione per promuovere l'inclusione di persone con condizioni di salute croniche e la loro capacità di mantenere il lavoro o di tornare al lavoro. Quindi, ora è il momento di completare la tua checklist. Scopri quanto è inclusivo il tuo luogo di lavoro e sviluppa un piano d'azione per la tua organizzazione. Vai su workbox.crodis.eu e inizia il tuo training gratuito. Perché il benessere sul lavoro è un affare per tutti. Grazie a tutti.